Buongiorno a tutti, io ho chiacciato furlando, di chiacciare ai planchi così sei sicuro che quasi tutti arriverei a capire che spoglie le cose che hai voglia di dire. Innanzitutto, questo dice a tutti chi sei emozionato, chi sei emozionato perché torna qui, perché questi che 132 anni fa in questi antenati, in questi furlani si sono venuti a plantare queste colonie, ha un momento particolarmente significativo e sei onorato di essere qui, voi la mia presenza va oltre la mia persona, voi tutti il friù alla chi con voi atti.